Cari amici, ben ritrovati a 60 secondi con la Bibbia. Proseguiamo la lettura del Vangelo secondo Giovanni, versetti 3 e 4 del capitolo primo. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. L'Evangelista ci fa capire come ogni cosa è stata fatta attraverso di Lui, per mezzo di Lui. Già la Bibbia, l'Antico Testamento, collegava la creazione alla parola di Dio, alla sapienza di Dio. Adesso abbiamo Cristo, che è anche luce degli uomini, oltre ad essere vita. Luce che ci illumina nelle tenebre. Arrivederci.